Grinta, tenacia, senso del lavoro e responsabilità. Tutte caratteristiche che fanno parte del Memoria Ergolinucci, trofeo 100% romagnolo attribuito per l'edizione 2017-2018 al ravennante Nicola Dalmonte. Fa sempre piacere ricevere dei premi, poi questo qui ancora di più perché comunque come sono di qua, ho iniziato nelle giovanili a giocare qui con il Cesena e fa molto piacere. In stagione sono 30 le presenze raccolte dall'esterno, condite da 3 gol e 8 assist. Un bottino di tutto rispetto. Sì, diciamo il gol magari si poteva fare anche qualcosa di più e a livello di assist sono contento, sono molto contento e anche come livello di corse e tutto abbiamo fatto una buona stagione. Ora le meritate vacanze dopo le fatiche stagionali. Con ancora un anno di contratto col Cesena, l'Azzurrino ha già però diversi club interessati alla sua figura. Ancora non so niente, vedremo poi, ancora non so niente.